Allora, adesso si parlerà del Codex Alimentarius, per cui anche qui avremmo tutta una serie di notizie, credo, legiferate o meno su quello che è un po' la sicurezza sull'alimentazione. Prego, a lei la parola e taglio io, mi vede fare i gestacci soliti quando siamo in dirittura d'arrivo. Grazie. Grazie, sono in Pagnetiello e sono il coordinatore del punto di contatto italiano per il Codex Alimentarius. Cos'è il Codex Alimentarius? Il Codex Alimentarius è un'organizzazione intergovernativa che è stata creata dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Nel quadro dei loro mandati, quello dell'Organizzazione Mondiale della Salute rispetto all'alimentazione, l'ha stato fatto notare dai relatori che mi hanno preceduto, per la FAO si tratta della sicurezza alimentare, un'organizzazione creata per preparare delle norme che hanno tre obiettivi. Garantire la sicurezza sanitaria degli alimenti, quindi un cibi sani. Favorire il commercio internazionale, ma favorire il commercio su basi eco in modo che non ci siano degli scambi che siano falsati, non ci siano una cattiva concorrenza e coordinare tutto un grande lavoro fatto da molte organizzazioni internazionali nel campo dei prodotti agroalimentari. La Commissione si è riunita nel 1963 per la prima volta e ieri ha concluso la 36esima sessione. Il Codex Alimentarius è l'organizzazione dove è nato il sistema HCCP, per avere un'idea di quello che succede, ed è l'organizzazione in assoluto più rappresentativa a livello mondiale per quanto riguarda le norme alimentari. Sono membri del Codex 185 Paesi ed è membro del Codex anche l'Unione Europea. Queste norme hanno un valore di riferimento e quindi non sono norme che possono essere direttamente utilizzate a livello nazionale, ma che progressivamente sono diventate sempre più importanti per tutti i Paesi del mondo. Prima le norme del Codex erano fatte proprie soprattutto dai Paesi in via di sviluppo, perché non avevano la capacità di sviluppare un'analisi del rischio autonoma. L'industria non preparava, l'industria dei fitofarmaci oppure degli addittivi, non preparava i dossier, i fascicoli che costano parecchi soldi da montare insieme, non faceva la ricerca necessaria per poter creare una norma ed erano venivano utilizzati da loro. Comunque, allora, il Codex prepara delle norme che devono essere alla base del commercio internazionale, che devono guidare le relazioni e favorire gli scambi e garantire la salute del consumatore. E' ancora oggi un obiettivo importante, c'è questa globalizzazione. In effetti sì, perché il consumo mondiale degli alimenti e il commercio mondiale degli alimenti crescerà in maniera esponenziale e il ruolo dei Paesi in via di sviluppo, in particolare delle economie emergenti, aumenterà in modo notevole. E' previsto che nell'arco di dieci anni raddoppierà il nucleo delle famiglie di classe media nei Paesi emergenti. Questo significa, dobbiamo pensare all'India, il raddoppio della classe media in India significa che si creano delle potenzialità commerciali significative anche per noi, perché aumenta la possibilità di... l'Italia ha incominciato a esportare vino in Scena, che qualche anno fa era una cosa del tutto impensabile, e in quantitativi significativi. Ed il Codex è il posto dove questo coordinamento avviene. Noi abbiamo concluso ieri la riunione per avere un'idea di alcuni lavori che sono stati conclusi. Ci sono le direttive sui sistemi nazionali di controllo degli alimenti, le direttive per la valutazione del rischio dei mangimi, un lavoro che era stato fortemente evoluto dalla comunità europea, un lavoro sui parametri, i criteri microbiologici da applicare, un lavoro che è stato elaborato dopo tutta una serie di riunioni di riunioni a livello scientifico, tecnico, attraverso gruppi di lavoro specializzati e numerose riunioni di un comitato dedicato, il Comitato per l'Igiene degli Alimenti. Allora, quindi il Codex elabora e pubblica queste norme, le pubblica su internet, possono essere accessibili a tutti e lo fa attraverso differenti comitati. Alcuni si occupano di prodotti, abbiamo un comitato per gli oli e le materie grassi, per esempio, un comitato per il cacao e poi ci sono i comitati orizzontali che si occupano di questioni orizzontali, che sono dei comitati di particolare importanza, perché se per esempio il Codex non ha una norma sul vino, non ha un comitato per il vino e per il vino ci affidiamo all'Organizzazione Internazionale per la Vita e per il vino, gli additivi e i contaminanti, quando si tratta di vino, sono invece fatti propri dal comitato orizzontale per i contaminanti, da quello per il vino e quindi possiamo avere lavori sulle ocratossine nel cacao, pur non avendo una norma specifica sul cacao, ma avendo invece dei codici per la lavorazione, ed è davvero un grande lavoro. Gli LMR per i pesticidi sono quasi 4.000 e riguardano 179 diversi pesticidi e le disposizioni per gli additivi sono 2.500 per 300 additivi e continuando di questo passo. Abbiamo per l'igiene 16 codici e direttive di applicazione generali, inclusa quello che riguarda l'HACCP, dove davvero è stato il Codex che è stato creato l'HACCP. Quindi cosa c'è dietro questo lavoro? Tutto il Codex Alimentarius, sia quando si sta lavorando su una questione che sembra più di qualità, sia quando lavora su aspetti collegati alla sicurezza sanitaria, dove spesso ci sono delle demarcazioni che non sono tanto chiare oppure tanto evidenti. Quando parliamo di etichettatura nutrizionale stiamo parlando di qualità o perché diamo informazioni al consumatore o stiamo anche permettendo al consumatore di avere un'alimentazione sana e quindi stiamo facendo sicurezza sanitaria degli alimenti. Sono strettamente collegate le cose. Bene, tutto questo lavoro è basato su delle informazioni scientifiche e sul lavoro di panel scientifici che assistono la commissione del Codex e seguono tutto il processo. Quando parliamo di additivi abbiamo un gruppo di lavoro conciundo, di esperti indipendenti che seguono più o meno le regole dell'EFSA che valuta gli additivi. Lo stesso gruppo, riunito in composizioni particolari, si occupa anche di farmaci veterinari e si occupa di contaminanti. Quindi abbiamo delle valutazioni, abbiamo dei dossier che vengono preparati dai paesi che sono interessati o dalle industrie. In molti casi devono essere preparati dall'industria e presentati dai singoli paesi che possono essere come condizione di base perché il lavoro possa andare avanti. L'Italia partecipa da sempre ai lavori del Codex e noi abbiamo sempre più bisogno come gruppo, come ufficio che si occupa di partecipare, di assicurare la partecipazione dell'Italia in questo lavoro che è particolarmente complesso. Ci sono una ventina di riunioni internazionali, dei comitati che vanno seguiti per poter partecipare, valutare centinaia di progetti di lavori. Noi abbiamo bisogno per essere propositivi ma anche per poter difendere i nostri valori, per poter difendere le nostre produzioni. Abbiamo bisogno sempre più di poter contare sul lavoro scientifico. Io mi sono trovato alla riunione del Comitato per gli additivi a chiedere che il carotene non potesse essere utilizzato come un additivo nella pasta. Ma non posso dire bene, non accettiamo la proposta di questo additivo nella pasta perché semplicemente non ci piace, altri lo usano. Ho dovuto spiegare perché, dare delle giustificazioni e dire che questo tipo di colore può comportare confusione nei consumatori perché non riesce a capire da quali cereali sono stati utilizzati nella pasta. Adesso c'è tutto un lavoro che riguarda gli additivi che sono ammessi nel vino. Non possiamo dire che questo ci piace. Abbiamo coinvolto gli esperti di alcuni istituti scientifici italiani dell'Accademia e tutte le proposte che i diversi paesi del mondo, Nuova Zelanda, Cile, Brasile e altri hanno richiesto al Codex, le abbiamo valutate e alcune possono essere accettate. Per altre abbiamo delle riserve, ma queste riserve le dobbiamo circostanziare sulla base di informazioni precise di valutazioni scientifiche e questo significa dire no ad una certa richiesta perché quella particolare sostanza crediamo che non sia un additivo ma sia un quadiuvante tecnologico e che quindi non debba seguire un cammino invece che un altro. Allora fino agli anni 90 il Codex era un posto tranquillo, c'erano molte riunioni all'estero quindi chi si occupava di queste cose viaggiava, però era un posto tranquillo e poco importante. L'Italia non finanziava la partecipazione di nessuno ad andare in giro tra Stati Uniti, Australia, Canada da seguire questi lavori. Tutto è cambiato negli anni 90 perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio è stata finalmente istituita e per accompagnare lo sviluppo del commercio internazionale ha stabilito che per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie queste dovesse essere basate soprattutto su delle analisi scientifiche, su delle valutazioni del rischio dovranno essere quindi il frutto di un'analisi del rischio. Se un paese poteva decidere l'applicazione di un certo parametro microbiologico o la ricerca sistematica di una certa tossina e dentro certi limiti, non so, nei molluschi bivalvi, questa è una misura sanitaria. Questa misura doveva essere basata su un lavoro scientifico. Il negoziato doveva avvenire su questa base. Allora noi abbiamo che i singoli paesi sono chiamati a decidere le misure che hanno degli effetti, che possono avere effetti sul commercio internazionale sulla base di questa valutazione. Nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie si dice però che le misure del codex alimentarius sono basate su questo lavoro. Abbiamo lo GECFA per gli addittivi, poi abbiamo un altro gruppo per i farmaci, per i residui dei pesticidi, ancora un altro gruppo che valuta il rischio microbiologico ed un gruppo che oggi da pochi anni ha iniziato a riunirsi per occuparsi della nutrizione, degli aspetti collegati alla nutrizione. L'istituzione di questo gruppo sulla nutrizione ha scatenato una campagna violenta contro il codex perché veniva visto da tutto un mondo che vende e commercializza prodotti molto molto nutrienti come un'ingerenza e un voler mettere in ordine i valori di riferimento nutrizionali e il calcolo di questi valori di riferimento nutrizionali su basi scientifiche è un aspetto che pensiamo sia essenziale per le diete, per un'alimentazione sana. Il codex sta facendo questo lavoro ma lo sta facendo sulla base di valutazioni e sono questioni veramente difficili da negoziare. All'ultima sessione del codex alimentare, cioè praticamente ieri è stato approvato per esempio il valore di 2.000 mg per chilo per il sodio come valore di riferimento nutrizionale. Il sodio è un nutriente che è associato alle malattie non trasmissibili collegate all'alimentazione, quello di cui parlavano i nostri colleghi. Volevo, l'Italia si è organizzata in questo modo, noi abbiamo il nostro ufficio per ogni riunione del codex ha un gruppo di lavoro di riferimento dove abbiamo diversi dei colleghi che presenteranno anche oggi le relazioni presenti in questo lavoro. Abbiamo quindi esperti di tutti i ministeri, compreso il mio ministero, perché il punto di condatto funziona come un coordinatore tra i diversi ministeri competenti che sono il ministero dello sviluppo economico, soprattutto per gli aspetti di sicurezza sanitaria, il ministero della salute e lo stesso ministero dell'agricoltura, ma abbiamo anche poi l'accademia e la ricerca più collegata alle attività ministeriali, quindi gli istituti sperimentali del ministero dell'agricoltura, l'istituto superiore della salute e i vari centri di referenza che stanno diventando, in uno lavora la collega che appena ha finito di parlare, ma per dare un'idea, noi abbiamo lavorato assieme a un istituto di rischio profilattico per il Lazio e la Toscana per poter negoziare bene le direttive per il rischio, per la resistenza agli antimicrobici, era diventato un grosso problema e quindi bisognava fare delle direttive perché gli alimenti non fossero un ulteriore elemento che creasse problemi di accresciuta resistenza agli antimicrobici. Abbiamo quindi questo codex che dopo la ricognizione che ne è stata fatta dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi una presunzione di compatibilità delle misure nazionali che derivano da quelle del codex, si è visto coinvolto in tutta una serie di lavori. Allora si è occupato di biotecnologie, di alimenti derivati dalle biotecnologie, degli OGM, la valutazione del rischio degli OGM è regolamentata da direttive del codex alimentarius, quelle dell'Unione Europea sono compatibili con quelle del codex alimentarius. Il lavoro sulla resistenza agli antimicrobici, abbiamo detto, il lavoro sull'inclusione degli alimenti per il mancime che prima erano considerati qualcosa del tutto a parte che riguardava l'alimentazione del bestiame e quindi riguardava altri comparti, invece perché la catena alimentare inizia dall'agricoltura un maggiore lavoro sui codici di buone prassi. Ora, ma la nostra regolamentazione è regolamentazione oggi, soprattutto comunitaria... l'Unione Europea è membro del codex alimentarius, noi abbiamo un sistema complesso di presentarci alle riunioni del codex con quindi un ordine del giorno annotato e a seconda dei diversi punti. Abbiamo competenze differenti, diritti di voto differenti, però quello che è importante è che l'Italia deve comunque salvaguardare la possibilità di avere la propria rete di ricercatori, di biologi, di esperti sui metodi di analisi perché nel momento in cui io voglio volevo impedire, voglio impedire certi additivi, voglio impedire l'autorizzazione internazionale di certi additivi che credo possano crearci dei problemi, non mi posso aspettare che un esperto di Bruxelles, che non esiste l'esperto di Bruxelles, perché tutti gli istituti sono un po' sparsi sul territorio, mi faccio il lavoro. Tocca a noi, tocca a noi avere gli istituti di zooprofilattici e avere anche esperti privati per il lavoro sull'agricoltura, sull'acquacoltura biologica, è stato un biologo di Bari che è a capo di tutto, che è ormai un'autorità internazionale sull'acquacoltura organica, sull'acquacoltura biologica, che ci ha aiutato molto nella valutazione dei documenti, delle varie proposte e siamo stati particolarmente dei propositivi e soprattutto capaci di bloccare le richieste di altri che ritenevamo incompatibili con il nostro. In ogni modo volevo solo dire che si può approfondire molto sul sito del Codex Alimentarius e che l'ufficio ha questo tra le sue funzioni, tra i suoi doveri, l'ufficio presso il Ministero delle Politiche Agricole è completamente a disposizione per ogni chiarimento. Ogni tanto ci sono arrivate richieste da biologi e da altre professioni a cui gli si chiede di intervenire. Grazie. La ringrazio, Dottor Caniglio. Perfettamente nei tempi. Grazie. Grazie.